Tu hai compreso che cosa vuole dire misericordia io voglio e non sacrifici? Hai conosciuto e sperimentato nella tua vita la libertà del figlio di Dio? Di chi è costantemente rigenerato, perché gestato, formato nelle viscere di misericordia della Chiesa, dove riceviamo la natura stessa divina, un cuore pieno di misericordia. Chi ha imparato da nostro Signore Gesù Cristo ascoltando la sua parola? Chi si nutre nel seno della Chiesa dal puro latte spirituale che sono i suoi sacramenti, attraverso i quali arriva a noi la misericordia, arrivano a noi i sette doni dello Spirito Santo, che ci fanno figli di Dio in Gesù, figlio di Dio, per camminare nella vita nuova e libera dei suoi apostoli, dei suoi discepoli, di coloro i quali seguono le sue orme e sono liberi come lui è libero e sono per questo mondo sacerdoti. Sì, tu sei un sacerdote perché intercedi con la tua preghiera e con l'offerta della tua sofferenza, dei tuoi problemi, con il dono di te stesso per tutto il mondo, incominciando da tua moglie, al tuo marito, ai tuoi figli, dai tuoi genitori, fino ai tuoi parenti, ai tuoi colleghi e anche alle persone che ti fanno del male. Sei libero di entrare in una relazione di intimità profonda con Dio, l'intimità del figlio, l'intimità del discepolo, l'intimità della sposa, l'intimità di chi ama. Per questo Gesù oggi fa risuonare la sua voce potente per spezzare ogni immoralismo, ogni legalismo, ogni complesso, ogni scrupolo, ogni ipocrisia, ogni falso perfezionismo, ogni legge umana con la quale noi vorremmo imporre a noi stessi e agli altri il modo di comportarsi, illudendoci di sfuggire alla precarietà spirituale, cioè alla nostra debolezza. E invece, fragili, deboli, peccatori, siamo chiamati dal nostro Signore Gesù Cristo ad essere i Suoi discepoli. Chi ha sperimentato in sé stesso, nella propria vita, la misericordia di Dio, sa che Gesù è il Signore del sabato, perché il sabato è per l'uomo e non l'uomo per il sabato. È il luogo dove il Signore ci attende per donarsi a noi. Il sabato, lo shabbat, il riposo, le liturgie, la parola, i sacramenti, sono per noi, perché tutti noi possiamo conoscere la misericordia ed essere trasformati in discepoli della misericordia, testimoni della misericordia, dispensatori della misericordia. Trasformati noi stessi in shabbat, in sabato, in riposo, in luogo di incontro con Dio, per chi c'è accanto. E così, come noi non siamo per il sabato, ma il sabato è per noi, le persone che non sono per noi, per servire noi, ma noi siamo stati chiamati nella Chiesa come un dono d'amore e di misericordia che Dio fa a tutte le persone che sono accanto a noi e che incontreremo nella nostra vita.